amici buongiorno ben ritrovati mi stavate chiedendo che cosa stavo facendo io e stavo notando con piacere che il germogliamento delle piante è iniziato quindi da primavera e alle porte come vedete queste qua sono le prime foglioline che si stanno sviluppando mentre sfortunatamente le gemme poste all'apice sono state bruciate dal freddo ma non non ci sarà nessun problema per lo sviluppo della pianta in questo caso sono piante in vaso della varietà primo sole e lo stesso discorso vale per tutte le altre varietà presenti nell'azienda anche come produzione di frutti le piante sono disponibili sia queste qua per la venita immediata altrimenti qui sotto ai miei piedi sono presente quelle messe in vaso che anche in questo caso già il germogliamento è iniziato e quindi sono aperte le prenotazioni per la consegna del mese di ottobre novembre 2021 rimanete in contatto sui social per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni un abbraccio ciao